ciao a tutti sono francesco di outtake is made sono qui insieme al redmi note 8 pro andiamolo a scoprire nella mia recensione ciao a tutti sono francesco di outtake is made andiamo a vedere la recensione del redmi note 8 pro la versione super accessoriata della gamma note che nella scatola di vendita italiana è disponibile la versione dual sim diversi colori nero questo bianco parlato che ho preso io che è bellissimo è un azzurrino nella scatola sono comprese le batterie lo spillino per muovere la sim una cover originale xiaomi se riesco a rimuoverla dalla scatola classica manualistica e come al solito carica batterie usb veloce vediamo da quanti ampere se non sbaglio e da due ampere no uscita 3 ampere 5 volte quindi ricarica la batteria abbastanza rapidamente ovviamente il cavo usb di tipo c come vedete nella scatola sempre come al solito sempre semplice e minimale non ci sono mai le cuffie perché xiaomi non le mette mai ed ovviamente c'è il il telefono che si presenta con un grande display di tipo ips da 6,53 pollici con risoluzione full hd plus quindi 1080 pixel per 2.340 con scoperto da un beto gorilla glass 5 la cpu è la novità della serie note abbandona qualcomm per il mediatek helio g 90 t che è un octa core che assicura prestazioni veramente soddisfacenti ed è proprio lì il il cuore pulsante di questo dispositivo che veramente si sgancia dal forti dubbi perché si è sganciato dal collaudatissimo cpu qualcomm in favore dell'elio che è veramente mia mi ha sorpeso in quanto stabilità e velocità e tra l'altro non scalda neanche sotto forte sforzo disponibile la versione di 6 gb di ram e 8 questa è la versione da 6 memoria interna 64 e 128 di tipo ufs 2.1 quindi velocissima ed espandibile con micro sd tramite inserimento con carrellino laterale perché un dual sim ed è possibile anche inserire le una memoria un'espansione la fotocamera principale fotocamere posteriori come vedete sono leggermente sporgenti di veramente qualche millimetro però il gradino si sente però essendo centrali veramente non va a ballare neanche sullo schermo sul sul tavolo quindi veramente ben bilanciato sono 199 grammi un po' bilanciati verso il basso perché non si si riesce a tenere centrato verso il centro come vedete è abbastanza scivoloso perché essendo questo frame in metallo molto liscio il vetro sul retro tende a scivolare veramente credo che sul retro sia plastica non vedo anche se al tatto sembrerebbe vetro ritornando le fotocamere principali sono quattro di cui il sensore principale che questo qui il più grande è da 64 megapixel di tipo samsung e marcaro samsung poi c'è il grandangolo che è un 8 megapixel la folle folla fotocamera dedicata per le macro che sono due megapixel in più c'è quello che il sensore profondità questo più piccolo anch'esso da 2 megapixel fotocamera principale un'apertura f 1.8 con una grandezza dei pixel 0 8 micron quindi veramente ottima che andremo a vedere quello lì fiore l'occhio di questo noto 8 pro fotocamera frontale e da 20 megapixel e funziona sia come fotocamera per lo sblocco del volto che vedete è veramente rapidissima basta alzarlo ci mette veramente un millisecondo molto veloce anche rispetto a gli ultimi galaxy usciti mi è piaciuto tantissimo come vi dicevo le dimensioni e il peso sono notevoli quasi duetti quindi 199 grammi si sentono 8,8 mm di spessore abbastanza spesso quindi si tiene in mano non in maniera agevole 161 mm di altezza per 76,4 permettono di avere in questo dispositivo da 199 grammi e uno spessore comunque non tanto contenuto ma il grandissimo batteria da 4.500 mAh ragazzi vi assicura due giorni di autonomia senza se e senza ma io sotto stress utilizzando tantissimo in questi giorni per fare foto sono arrivato a sera veramente con un 40 per cento senza problemi un utilizzo normale due giorni li fate tutti quanti quindi un utilizzo media meno che non state sempre sui social veramente li fate tranquillamente due giorni il caralino è un dual sim tutte e due entrambi con con il 4g quindi potrete utilizzarli tranquillamente senza problemi al momento disponibile la mio ai 11.03 che include tutti gli aggiornamenti fino a novembre 2019 momento in cui stiamo registrando questo video come vedete è l'ultima versione disponibile e purtroppo c'è android 9 pi che al momento non è arrivato alla versione 10 ma si rumoreggia che proprio in queste settimane deve essere rilasciato in in via definitiva due note importantissime rispetto alla gamma note xiaomi che ci ha sempre abituato sulla fascia di prezzo tra i due trecento euro e l'assenza dell'nfc qui invece c'è quindi pagamenti con il tocco veramente molto rapidi semplicemente appoggiando lo smartphone si può attivare direttamente dalle impostazioni e poi la certificazione ip52 che comunque è resistente agli schizzi d'acqua non immersione niente perché non è certificato per le immersioni però almeno un piccolo passo avanti quindi non potete immergerlo completamente nell'acqua quindi se vi cate nell'acqua addio not 8 pro a livello di hardware come vi dicevo ci sono c'è il processore elio g90 t che è un mediatek è un octa core che ben si comporta in sottostress si scalda un pochettino qui nella parte centrale più verso il basso verso il logo redmi ma veramente lo fa lo fa pochissimo andiamo a vedere real racing che si avvia in una quindicina di secondi all'incirca quindi un po più lento rispetto alla stessa modalità gli altri dispositivi concorrenti del con cpu qualcomm quindi un pochettino lento come sentite all'audio lo metto al massimo veramente ottimo questo sono ovviamente uscito fuori pista volevo far vedere un attimo la sensibilità ma è la qualità che si vede benissimo è molto elevata non scalda per niente questo questo dispositivo e la velocità veramente flumida i grandi display sicuramente aiuta a ad utilizzarlo senza problemi in qualsiasi condizione come vi dicevo le fotocamere sono il punto a favore di questo di questo dispositivo che mi hanno veramente impressionato per la qualità per la qualità fotografica in linea generica come vedete queste sono le foto che ho fatto in serata e c'era veramente buio c'era solamente l'insigne che illuminava ma non era super luminosa come vedete questa che è quella fatta col sensore 64 megapixel è veramente ben definita mentre le altre facendoli con lo zoom e col grand'angolo non si legge la scritta però comunque si vanno a leggere le targhe anche a distanza quindi comunque è molto definita però qualcosa perde effettivamente il vero plus di questo dispositivo è il sensore 64 megapixel che fa veramente la differenza come vedere anche qui lo scattate quasi tutte in notturno comunque dopo il tramonto e si vedono veramente veramente bene le foto di giorno sono perfette veramente per un utilizzo normale vanno veramente benissimo anche quella per i selfie i colori sono un po' slavati però tutto sommato fa foto in alta risoluzione che qui vedete era completamente al buio e si vede tranquillamente tutte quante le stelle si riconoscono al perfino i minimi dettagli e i vari mattoncini della chiesa qui di stresa quindi veramente un ottimo lavoro da parte di Xiaomi questa è veramente bellissima qui la metto in alta risoluzione qui è sul stresa sempre si vede veramente benissimo utilizzando tutti e tre i sensori ma quello da 64 megapixel permette di avere una definizione veramente veramente mostre di tutto il paesaggio anche in condizioni di scarsa luminosità con gli ultimi aggiornamenti ne ho ricevuti circa due da quando ce l'ho quindi un mese e mezzo anche la fotocamera è migliorata tantissimo e e veramente sono contentissimo anche utilizzando effetti bokeh effetti di messa a fuoco selettiva funziona molto 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 bene qui anche era un video era quasi al buio ed escono buoni forse video è l'unica pecca di questo redmi note 8 pro mentre i video sono le foto sono perfette di giorno qualche leggera sbavatura con del rumore di fondo per le foto notturne mentre i video non c'è ancora da lavorare ritornando allo smartphone mi è piaciuto tanto perché è completo è solido la batteria dura tantissimo ha poi il jack per le cuffie che non guasta mai la porta usb 3.1 quindi non c'è l'uscita video il design non è più anonimo come la gamma note ma finalmente spicca per un modulo fotocamera anche se l'avrei preferito a raso i colori molto belli e raffinati in tutte le colorazioni il software che ovviamente ormai conosciamo bene con la mio ai anche se fermo solo android 9 con la nuova versione sicuramente andrà a migliorare un pochettino la grafica anche se c'è questa specie di google assistant che ti include le applicazioni più utilizzate le note insomma per andare a a scaricare le applicazioni consigliate ovviamente ci sono le solite cinesate come zoom solitario da scaricare ovviamente si possono disattivare dalle impostazioni lt fino a 600 mega bits al secondo wifi dual band ac bluetooth 5.0 nfc radfm 4 fotocamere 4 fotocamere posteriore una sola anteriore il display un full hd plus che si legge bene anche sotto il sole poi faccio un test che veramente non fa quasi nessuno ma test dell'occhialazzo polarizzato per vedere si veda benissimo vedete che più o meno si vede bene in tutte le condizioni tranne che in orizzontale leggermente si va a coprire il però in posizione normale si vede comunque bene per chi quindi vuol dire che la polarizzazione è ottima anche in verticale con altri dispositivi tipo il note 10 a tutti i samsung trovo difficoltà io utilizzo sempre le lenti polarizzate a vedere lo smartphone quindi diventa completamente nero non so se qualcuno ha modo di provarli ma consiglio veramente di provare con gli occhiali con lente polarizzato finalmente si vedono le notifiche nella barra adesso non ho notifiche nella barra superiore anche se scuotriamo verso il basso non si vanno a cancellare fluidità ai massimi livelli senza senza compromessi solo qualche piccolo rallentamento e poi concludiamo con la grande autonomia ricarica veloce fino a 18 watt quick charge 4.0 che veramente è veramente una godura due giorni di autonomia se veramente non siete assidio utilizzatore dello smartphone ci è arrivata anche a tre forse un po' troppo ottimistica come come previsione però comunque ci ho fatto veramente un utilizzo veramente smutato con quattro ore di display acceso e sono arrivato a sera ancora con un 40% quindi veramente lo consiglio ovviamente sia per le foto di giorno e di notte che per l'autonomia poi è anche carino esteticamente prezzo disponibile ufficialmente 259 euro una versione da 64 giga e 299 la versione da 128 ma online ragazzi si trova anche a 250 il 128 quindi veramente non ci pensate più tra 64 e 128 prendete a 250 questo modello che veramente è il medio gamma che più mi ha soddisfatto l'unico neo è che Xiaomi o Redmi ne ha tanti l'8T il Note 8 che sono sempre ottimi validi validissimi dispositivi sempre nella stessa fascia di prezzo il Mi 9 è leggermente superiore Mi 9T che è superiore qualitativamente dappertutto lo si trova per una cinquantina di euro in più quindi sono tutte quelle fasce di prezzo che veramente si vanno ad accavallare veramente si vanno a pestare i piedi da soli quindi è un vero problema è un vero problema per Xiaomi e per Redmi che dovrebbero veramente aggredire il mercato con tanti dispositivi ma non troppi perché ce ne sono veramente tra i 150 e i 300 euro che è una fascia di prezzo molto comune c'erano forse 10 15 modelli tutti più o meno simili cambia leggermente questo vi è piaciuto tanto avrei preferito quella della CPU Qualcomm per una serie di motivi più veloci più fluido più potente e sicuramente più facile aggiornare anche perché non ho ancora Android 9 Android 10 probabilmente anche quella è colpa della CPU Mediatek che sta bloccando l'espandersi dell'aggiornamento comprateli se lo trovate 250 sotto i 250 euro non pensateci neanche e tra i migliori dispositivi nella fascia 200-250 euro li merita veramente tutti un saluto a tutti da Francesco di Outtake is Made